Allora papà, oggi ti spiego perché non sei andato a scuola, ok? Perché è una cosa seria, perché c'è il coronavirus, è un virus pericoloso, ma mica lo dico io, eh? Vedi qua, è un virologo questo, un professore universitario, vedi cosa ha dichiarato? L'unica arma per questo virus è l'isolamento, non c'è una cura, insomma non è un'influenza qualsiasi, bisogna stare attenti! E questo è un virologo, anche questa virologa, vedi questa virologa cosa ha detto? Ah no, questa ha detto invece che non è così grave, dicevano un'influenza un po' più pesante del solito, però niente di che! Però le istituzioni hanno detto che è pericoloso, hai visto a Milano che hanno fatto? Hanno chiuso perfino i bar dalle 18 in poi per evitare il contagio, eh? Perché vedi la notizia che adesso hanno comunicato qua che, ah no, hanno comunicato che li riaprono oggi dalle 18 in poi perché non c'è il pericolo! Beh, non è quello perché è un bar, insomma non poche le persone, però allo stadio che ci sono migliaia di persone a partita l'hanno detto che è pericoloso! Infatti domenica per esempio Juve Inter si gioca a porte chiuse! Eh, vedi la notizia qua che Juve Inter forse si gioca lunedì a porte aperte? Ah perché no? Perché da domenica a sera a lunedì in effetti no che il virus... Comunque per vederci chiaro, amore mio, vedi? Hanno fatto un numero, 1500, tu chiami 1500 a papà e subito... A casa dell'elevato numero di chiamate pervenute si informa che tutte le linee sono impegnate! Sì, ha chiuso! Visto che le cose sono chiare, aspetta un attimo, eh! Amore? Senti, sei al supermercato? Eh, prendi tutta la pasta che c'è, va che qua l'unica cosa che è chiara è che non è chiaro! Eh, tu rigi! Un giorno capirai, amore!